Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 tra il bivio A1-A11 e incisa Reggello in direzione Roma, coda dovuta a traffico congestionato. Coda tra incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Traffico rallentato in A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello in entrambe le direzioni. In Fipilita Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze e all'uscita la stassigna provenendo da Firenze, code per viabilità esterna che non riceve. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena, restringimento di carreggiata all'altezza di località Prumiano. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, per un intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a causa di un principio d'incendio nei pressi della sede ferroviaria, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rovezzano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Legione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!